A Memphis hanno rubato circa 400.000 dollari di controvalore in Dunk Low Panda. Abbiamo uno scandalo per le Air Force One in collaborazione con Travis Scott, ovvero quelle banalmente con la targhetta Utopia nel fianco, per non parlare poi delle nuove colorazioni di Foam Runner Slide e poi per concludere andremo a vedere dell'ultimo drop delle Yeezy che avverrà a breve. Ma prima di iniziare mettete subito un bel like, iscrivetevi al canale e soprattutto attivate la campanellina delle notifiche. Benvenuti a tutti in questo nuovo episodio di Caffè Hype, il nostro format dove andiamo a parlare di tutte le news di cui avrei bisogno per rimanere aggiornato a 360 gradi su tutto il mondo delle sneakers e soprattutto ci andiamo a bere un buonissimo caffè assieme. Detto questo, alla vostra. Mi sono dimenticato una cosa fondamentale ed ovviamente stiamo parlando del ventilatore. Ormai è diventato un meme del canale che ci ha assistito per tutto il corso di questa estate che finalmente sta finendo anche perché ragazzi, c'è, sto caldo ha rotto i coglioni. Quindi prima finisce, prima si può tornare a fare il content come si deve. Comunque, quali drop interessanti ci sono stati nel corso della scorsa settimana? Beh, in realtà di super juicy. Abbiamo avuto alcune scarpe interessanti. Ad inizio settimana c'è stato l'estrazione, vabbè, delle slide e delle foam uscite la settimana precedente per poi passare in realtà alle Dunk Low Mocha che ho qua, ma in realtà ve le ho già fatte vedere su Instagram. Quindi se non mi seguite, gravissimo, proprio vi lascio il link nella scheda in alto a destra per seguirmi perché stiamo arrivando ai 10.000 follower. Quindi datemi una mano, spingetemi ancora un secondo, che poi abbiamo raggiunto un traguardo super importante e che sicuramente verrà festeggiato. Però, tornando a noi, le mocha. Devo dire che non sono assolutamente male, sicuramente la colorway, tanta tanta roba, ma da quando Travis Scott ha lanciato la prima Jordan 1, l'hype per questa colorazione è assolutamente esploso e di conseguenza questa è una scarpa molto molto interessante. Ecco, l'unica cosa, forse avrei cambiato i lacci e li avrei messi in una colorazione to sale. Sono già sporche e schifose, ma perché le ho utilizzate un paio di volte e di conseguenza una scarpa che vi consiglio tantissimo di coppare, sicuramente. Sono andate sold out le taglie solamente su Nike dal 41 fino al 44,5 proprio perché è stata una versione da donna e di conseguenza non sono uscite taglie superiori, però not bad. Il 16 invece c'è stato un altro drop dello Yeezy Day, sono uscite le slide ed anche una colorazione di foam runner. E una scarpa super interessante sono le wave runner. C'è stata una piccola raffle durata un'ora nell'applicazione Conformed di Adidas, ovviamente. Lo stock è stato super limitato e credo che questa sia stata l'ultima volta appunto che Yeezy ci ha dato la possibilità di puntarle. Fatemi sapere nei commenti se le avete provate o no. Alcuni ragazzi della mia community di Discord ho visto che sono riusciti a copparle, quindi molto molto bene. Nel corso di questa settimana invece usciranno dei drop molto particolari. Domani, ovvero mercoledì, ci saranno le Kobi 8, scarpa da non sottovalutare, sia per il valore di Rassal, ma in realtà perché ha una Kobi, e poi anche le slide. Oltre a questi, giovedì usciranno finalmente le Jordan 1 Eye in collaborazione con Union. Ovviamente vi ricordo come sempre che fin quando Nike non mette l'annuncio nell'applicazione Sneakers che rilasceranno ufficialmente le scarpe, non sono confermate. E poi per concludere la settimana in bellezza, sabato 26, ci saranno le Jordan 4 Frozen Moments. Anche in questo caso le taglie saranno fino ai 44,5 e basta. Ovviamente se volete sapere tutti i lanci, non perdervi nessun restock, avere anche il software che vi farà il checkout in automatico e tutto quanto quello che ci va dietro, skyda in alto a destra, ho il link nella descrizione ed entrate nella mia community privata. Però, detto questo, le notizie di oggi sono molto interessanti. Abbiamo delle altre immagini per quanto riguarda i drop delle Dunk che usciranno a fine di quest'anno in collaborazione con le Powerpuff Girls. Davvero interessantissime, ci saranno queste tre colorway, ma già qua ne abbiamo parlato in passato. E in più anche la colorazione Friends and Family. Oltre all'immagine del back, adesso abbiamo anche un leak del fianco. Molto interessante sicuramente anche in questo caso. I materiali saranno molto molto buoni, non vedo l'ora che escano, comunque è una colorway. Molto interessante, un po' pacchiana, però assolutamente ci sta. Abbiamo anche un'altra colorazione delle Air Force One in collaborazione con Supreme che la data di release è sempre Holiday 2023, di conseguenza a fine di quest'anno. Non penso che supereranno l'hype di quelle white, però dai, sarebbe interessante che Supreme facesse una collaborazione appunto con Nike e non sto parlando solo delle Dunk SB, però che dia una ventata d'aria fresca sicuramente. Questo ce n'è un gran bisogno, c'è poco da fare. Nella top 10 di agosto vi dissi dell'Air Force One mid nella colorazione canariello che sarebbe uscito nel corso di questo mese. Beh, come fa sempre Off-White, posticipata ed uscirà nel corso di fine 2023. La notizia che potrebbe essere assolutamente una hit è quella delle Aero. Juge in collaborazione, vabbè, con Jordan per creare questa scarpa. Mi ricorda tanto la Ben & Jerry, ovvero quella che tutti ci ricordiamo, nello special box. Sarebbe una figata appunto che questa foto rappresenti anche il box con cui verranno vendute. Non lo so, magari potrebbe essere una versione speciale, come è successo tantissime volte, banalmente per la Ritos, oppure per le Lobster uscite a dicembre, e di conseguenza potrebbe essere assolutamente una hit. Speriamo, dita incrociate, non ho una data di release da darvi, però ecco, vi aggiornerò al 100%. È successo uno scandalo per l'Air Force One, quella dedicata all'album Utopia di Travis Scott. In poche parole, cosa è successo? Sono stati fatti dei pre-order, ovvero, in poche parole, voi andavate nel sito di Travis e compravate la scarpa, però non è che ve la spedivano direttamente. In poche parole hanno aperto questi ordini e hanno visto un po' se ci fosse domanda, e soprattutto quante. Il problema è che lo SKU, e quindi il codice univoco della scarpa, è lo stesso dell'Air Force One Total White. Quindi in poche parole non è nemmeno una collaborazione con Travis Scott, ma sarà semplicemente un Air Force One che banalmente potete comprare su Nike, solamente con la scritta sul fianco Utopia. Arriveranno nello stesso box, senza qualche abbellimento, nello stesso box inteso quello proprio dell'Air Force One di stock. Un po' weird, però non saprei cosa dire. Sicuramente è stata una classica mossa di marketing per far parlare di sé, dell'album. Ovunque ci potrebbe stare, ho sentito tanti pareri, appunto, di voi che mi avete scritto in DM, del fatto che sia un ottimo ricordo che, soprattutto dopo i due concerti di bomba che abbiamo avuto qua in Italia, a Roma e a Milano, per, appunto, avere un oggetto, un articolo che vi ricordi quel periodo storico e quindi banalmente quella giornata. Ci sta sicuramente anche perché il merce che è stato venduto all'evento faceva letteralmente schifo. Qualità dei materiali pessima, però, vabbè, ci sta assolutamente. Abbiamo delle nuove foto molto più dettagliate per la Cut the Check, ovvero la nuova linea di Travis, per quanto riguarda il suo brand di abbigliamento in collaborazione sempre con Jordan, però non più il modello standard. Abbiamo delle nuove immagini molto dettagliate, soprattutto per quanto riguarda la colorazione Reverse Mocha. Ovviamente da quando è uscita l'anno scorso, allo scorso luglio, molti di voi si ricorderanno, la Jordan 1 Low in quella colorazione è stata apprezzata letteralmente da tutti. Io non ho trovato una persona che si fosse lamentata, appunto, che fossero brutta. Sicuramente molti hanno criticato il prezzo di Resell, però diciamo che una scarpa del genere è oggettivamente fantastica. Ma detto questo, la Cut the Check nella colorazione Reverse Mocha, una hit assolutamente tanta 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 roba. Abbiamo nuove colorazioni, soprattutto di una foam runner e anche di una slide in questo colore verdino, se così vogliamo dire. Sicuramente interessante, ne stanno uscendo una marea di slide. Tantissimi ragazzi della mia community se ne stanno occupando a decine proprio, le stanno tirando dietro. E' molto interessante perché comunque banalmente questa è una delle ultime uscite, ovvero la marina e adesso il suo Resell sta intorno ai 95-100 euro. Però, vabbè, in questo caso sono 20-25 euro, però ogni singolo paio, provate a pensare a comprarne molti, il guadagno può essere davvero davvero buono sicuramente. Anche perché è incredibile quanta domanda ci sia dietro a una Sabat. Davvero qualcosa di pazzesco sicuramente. Anche perché comunque dovete capire che questo sarà uno degli ultimi drop, e adesso ci arriviamo, di Yeezy. Ovvero, una volta finito lo stock in magazzino, il CEO di Adidas ha espressamente detto che non verranno più prodotti. Però, che dire, sicuramente sarà molto interessante vedere innanzitutto come si evolve la faccenda, ma anche è stato bellissimo, soprattutto dalla mia visione, e comunque faccio anche il reseller, vedere un articolo del genere che comunque è plastica, o ma vabbè, come volete chiamarla, avere una richiesta davvero allucinante. Se vi ricordate, banalmente le Bon lo scorso agosto stavano tranquillamente a retail fino ai 46. Ci potevano occupare manual, sul Zalando, eccetera, eccetera, eccetera. Però molto, molto interessante sicuramente. Mi collego al fatto che questo sarà uno degli ultimi drop, appunto, di Yeezy. Anche perché lo stock in magazzino è stato venduto solo a giugno, per circa il 20-25%. Quindi, stimando un po' le scarpe che sono uscite, più o meno lo stock che è stato fatto, io, in genere, avendo tantissime persone in community, e comunque ragazzi del mio affiancamento privato, e, dato che sei arrivato fino a questo punto, nel nuovo link in alta destra che verrà fuori, hai uno sconto esclusivo valido solamente per oggi. Quindi, mezzanotte scade e adios. Però mi piace fare questi sconti dal momento che chi mi segue su YouTube e guarda il video, soprattutto fino alla fine, adesso non so quanti minuti siano passati, però assolutamente voglio ringraziarvi. Detto questo, ho un po' il polso della situazione, quindi vedo banalmente su tutti i ragazzi quante persone hanno occupato, quante persone mi iscrivono in DM, mi taggono nelle story, mi taggono nei post, eccetera. Quindi capisco quante paia siano state rilasciate, dato che su Adidas non abbiamo la possibilità di vedere lo stock, come banalmente mando quello di Nike, eccetera. E sicuramente non mancheranno tante paia, affinché la collaborazione proprio di Adidas e Easy sia finita. Ultima notizia ragazzi, e poi ci salutiamo e ci vediamo in un video molto interessante, nei prossimi giorni, e poi vi ricordo, seguitemi su Instagram, stiamo arrivando ai 10k, quindi se non l'avete ancora fatto, fatelo assolutamente. Però pochi giorni... Come cazzo è entrata una Vespa? Però pochi giorni fa vi riportai la notizia del fatto che i furti ad Adidas fossero aumentati di circa il 63% solamente nel corso dell'ultimo anno. Beh, esattamente l'altro giorno è uscita l'ennesima notizia e ennesimo scandalo che siano state rubate scarpe dal valore di 400.000 euro. Si parla principalmente di Dunk Low Panda, proprio perché, come vi dissi, queste associazioni criminali tendono a puntare comunque le scarpe in hype e di conseguenza facilmente rivendibili al mercato secondario. Che dire, la situazione sta letteralmente sfuggendo di mano. Noi, con i nostri soliti popcorn, magari il nostro caffettino, ci guarderemo dagli spalti. La situazione è sicuramente molto interessata. Ragazzi, io vi ringrazio per aver visto questo video fino alla fine. Vi ricordo di lasciarmi un like per aiutarmi con l'algoritmo di YouTube. Iscrivetevi al canale e soprattutto fatemi sapere nei commenti cosa ne pensate di tutti questi furti a Nike che stanno letteralmente succedendo praticamente una volta al mese. Tra il treno dirottato della polizia di Los Angeles che ha ritrovato 7 milioni di scarpe vicino al porto in dei magazzini anonimi. sicuramente ce n'è di cui parlare. Detto questo, buona giornata a tutti.